Benvenuti a questo video tutorial in cui vedremo l'applicazione reale di un webquest. Ricordo che tutti i materiali presenti in questa presentazione sono coperti da Creative Commons, in particolare by, vale a dire che sarà necessario eventualmente citare la fonte, NC vuol dire non commercial. Prima di vedere un webquest reale, ripercorriamo brevissimamente di cosa stiamo parlando. Innanzitutto cosa è e a che serve il webquest? Webquest è una strategia didattica attiva che chiede agli studenti di fare delle ricerche sul web, da cui il nome, su una serie di materiali già validati, già scelti dal docente e produrre un compito che può essere una relazione, una presentazione o altro. Il webquest si struttura di norma, secondo l'ideatore Bernie Dodge, in sei punti, in sei passaggi. Introduzione, compito, risorse, processo, suggerimenti e conclusione. Sembra somigliare al problem-based learning, l'apprendimento per problemi, ma rispetto ad esso è molto più strutturato, ha una griglia di processo in un certo senso più dettagliata e più stringente per il docente e per l'alunno. In altre parole potremmo intenderlo come una sorta di PBL guidato. A cosa serve? Possiamo dire che serve ad alcune cose. La prima, a effettuare sul web ricerche non dispersive. Oggi è praticamente impossibile dire ai ragazzi di fare una ricerca nel web senza dare loro delle indicazioni, in singolo o in gruppo. Un altro obiettivo è quello di innovare la didattica attraverso quelle che sono le metodologie attive, vale a dire le metodologie che mettono al centro lo studente. Poi un altro obiettivo nell'uso del web quest è quello di integrare le tecnologie nella didattica d'aula. Ora vediamo un esempio. L'esempio è tratto da un tema particolarmente dibattuto che possiamo sintetizzare così. Internet ci rende stupidi o ci rende più intelligenti? Questo web quest è una sorta di book quest, vale a dire partirà da due libri, da due testi. Come vedete, Nicolas Carr, Internet ci rende stupidi, è la domanda che funge da titolo. L'altro testo è quello di Howard Reingold perché, al contrario, la rete ci rende intelligenti. Il lavoro partirà da questi due testi, questi saranno le risorse del nostro web quest. Ecco quindi che possiamo subito vedere una differenza rispetto al problem solving. Qui non c'è un problema da risolvere, ci sarà, vedremo, una relazione da svolgere, e le risorse sono queste. Allora, il vantaggio di un web quest di questo tipo è, oltre a quello di svolgere una relazione e quindi di diventare più competenti sul tema, anche di fare media education, perché il tema è particolarmente legato anche all'educazione, alla consapevolezza dei nuovi media. Quali sono gli obiettivi? L'obiettivo è una maggiore consapevolezza di ciò che ci fa la rete, di ciò che facciamo con la rete, e allo stesso tempo un altro obiettivo più tecnico è quello della ricerca critica in un saggio, perché i ragazzi dovranno non solo redigere una relazione, ma trovare delle citazioni all'interno dei libri consigliati. Quali strumenti ci servono? I due libri di testo e, nell'ipotesi che si voglia fare anche una presentazione multimediale, un eventuale computer o tablet per elaborare anche questo costrutto. I tempi. Bernie Dodge sostiene che il webquest può essere di due tipi, breve o lungo. Se breve impegna il docente e i ragazzi per due o tre ore, quindi potremmo dire una settimana di lavoro, se lungo un mese. Questo tipo di lavoro può essere strutturato in entrambi i modi, a seconda di quante pagine diamo da leggere ai ragazzi. Se tutti i libri, allora sarà senz'altro un webquest lungo, altrimenti una selezione antologica potrebbe essere un webquest breve. Lavorare in singolo o in gruppo è forse sempre opportuno scegliere il gruppo, ma non sempre facile o fattibile. Quindi, se il webquest è soprattutto quello breve, allora è possibile anche lavorare in singolo. Se invece è quello lungo, è decisamente consigliato il lavoro di gruppo. Vediamo ora le fasi. Diciamo che il webquest si struttura in sei passaggi. I passaggi sono, abbiamo detto, introduzione, compito, risorse, processo, suggerimenti e conclusione. E ora vediamoli uno a uno rispetto al webquest che stiamo chiedendo ai nostri ragazzi. In un primo momento, nell'introduzione, cosa si fa? Si comunica ai ragazzi l'obiettivo del lavoro, i tempi, gli strumenti da adoperare, in nostro caso i libri, eventuale presentazione multimediale, e si dà una breve panoramica del tema che verrà affrontato, specie nell'ipotesi che questo tema sia sostanzialmente ignoto ai ragazzi. Questa è la fase di introduzione. Può richiedere circa mezz'ora o un'ora di lezione. Punto numero due. Il compito, cioè cosa chiediamo ai nostri ragazzi. In questo caso, stiamo chiedendo una relazione. Il webquest può richiedere molte forme. Noi abbiamo scelto la relazione. Quindi, nel compito, si dice ai ragazzi di consegnare, dopo un tempo di una settimana, due o un mese, una relazione di due cartelle, se breve, otto, se lungo, con una serie di citazioni testuali. Queste dipendono anche da quante pagine diamo da leggere ai ragazzi. Ipoteticamente, in un webquest breve, potremmo dare 20-30 pagine per testo. Nel webquest lungo potremmo dare l'intera lettura dei libri. E si può ipotizzare almeno due citazioni per ciascun testo, specie per quanto riguarda il webquest breve. Un numero maggiore dei due per quanto riguarda il webquest lungo. Poi, possiamo anche dare uno schema di questa relazione. La relazione dovrà essere costituita da introduzione, e qui potremmo anche definirle il numero di battute, o di pagine, o di righe, o comunque la lunghezza. Poi la relazione dovrà passare per questo punto, cioè la definizione delle due tesi, dei due autori, con citazioni. Poi, terzo punto, esplicitazione della propria tesi, e infine conclusioni. Per certi aspetti può somigliare alla forma saggio breve, questo. Anche se non è un vero e proprio saggio breve. Risorse. Qui, nel terzo punto, il docente consegna materialmente i testi agli alunni. Possono essere in formato PDF, o in formato cartaceo, in formato fotocopia, nell'ipotesi di dispense. E accanto a questi, anche risorse come link, oppure per esempio siti web, che possano in un certo senso chiarire anche il tema e tutta quanta la procedura. Il processo. Punto numero 4. Nel processo che cosa si fa? Si dice ai ragazzi come procedere. È un consiglio, non è stringente, ma può essere molto utile le prime volte che si implementa il web quest in classe. Per esempio, si può dire ai ragazzi di iniziare con una prima lettura per conoscere il tema, poi di una seconda lettura con evidenziazione delle parti importanti, poi si può chiedere anche la stesura di una scaletta della relazione, poi la stesura della relazione vera e propria e eventualmente della presentazione, e infine è ovviamente richiesta e necessaria una rilettura. Anche questa rilettura è opportuno che venga svolta in gruppo o in due, di modo da essere più consapevoli di quello che è il proprio lavoro svolto. Suggerimenti. Qui l'insegnante cosa fa? Dà una serie di suggerimenti suggerimenti sulle possibili difficoltà che si possono incontrare durante la stesura del lavoro. Questi suggerimenti qui, per esempio, potrebbero essere questi. Chiarire cosa sia l'overload e il sovraccarico cognitivo, cosa siano e cosa studiano le neuroscienze, cosa sia la corteccia cerebrale, differenza fra conoscenza, apprendimento e semplice ritenzione dei contenuti. Conclusione. Questo è il momento in cui i ragazzi consegnano il lavoro. Sarebbe sempre opportuno leggere almeno due presentazioni o due relazioni e poi procedere alla valutazione. Come funziona la valutazione? Valutare una metodologia attiva non è come valutare una verifica tradizionale. Occorre tenere in considerazione altri aspetti. Alcuni consigli. Si può, per esempio, elaborare una rubrica dove viene valutato il rispetto delle consegne, non solo in termini di tempi ma anche di modalità di redazione della relazione. Si può valutare l'aderenza ai contenuti richiesti, la chiarezza espositiva e anche l'uso, eventualmente sensato o meno, dell'approccio multimediale se questo è stato utilizzato, per esempio una presentazione PowerPoint o altro. Come fa il docente a capire se questo processo ha funzionato? Si può usare una griglia di questo tipo su tre livelli. Può somministrare un questionario di gradimento e chiedere così agli alunni la loro idea sul lavoro svolto. Si può poi anche effettuare una verifica sull'apprendimento perché la lettura aveva anche lo scopo di apprendere concetti nuovi e poi, questo forse è l'aspetto più lungo, vedere nel lungo periodo se la lettura ha prodotto dei cambiamenti nelle abitudini, per esempio, magari un uso meno compulsivo dello smartphone. Vediamo ora qualche conclusione. Allora, è probabile che il progetto, specie se siamo abituati a lavorare con la lezione frontale, avrà avuto degli aspetti positivi. Vediamo i più probabili. Innanzitutto, siamo riusciti a partire da un problema reale e si è chiesto ai ragazzi un lavoro il più possibile autentico. Non solo. Il tema è strettamente connesso al vissuto degli studenti, quindi è qualcosa di non esterno al vissuto degli studenti. L'argomento è potenzialmente interdisciplinare perché non per forza un docente di una sola disciplina può discuterlo. Allo stesso tempo, e questo forse è uno degli aspetti più importanti, abbiamo lavorato sulla cittadinanza attiva e la consapevolezza digitale, visto il tema scelto. Abbiamo probabilmente, questo non è scontato, fatto lavorare in gruppo gli studenti, cosa che non è così frequente, e abbiamo iniziato a lavorare non solo sui contenuti, che sono un ambito importante, ma anche sulle competenze. E poi è probabile che si sia riusciti anche ad operare sulle cosiddette soft skill, sulle competenze trasversali, quelle, diciamo, di relazione. Questo è avvenuto probabilmente se abbiamo lavorato in gruppo. E infine abbiamo rispettato probabilmente anche i tempi di apprendimento di ogni studente, perché anche nell'ipotesi di un webquest breve i ragazzi hanno avuto almeno una settimana o dieci giorni per la consegna, quindi hanno potuto elaborare il loro lavoro in tempi e in modalità abbastanza diversificate. Per questo motivo, dunque, abbiamo cercato di andare incontro anche alle esigenze dei singoli studenti, esigenze che sono naturalmente tutte diverse. bene, vi ringrazio per l'attenzione e ricordo che è possibile attivare corsi e workshop sul webquest scrivendo all'indirizzo info chiocciola designdidattico.com grazie a voi